E come preannunciato, cari amici di Padre Pio TV, il 7 febbraio è la giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. Un fenomeno in preoccupante crescita che riguarda soprattutto giovani e giovanissimi, ma non solo. Giornata istituita nel 2017 su iniziativa del MIUR. L'appuntamento del 7 febbraio è un'occasione per conoscere meglio questa piaga sociale e riflettere su quali possono essere gli strumenti di prevenzione anche per impedire che questi comportamenti violenti e di prevaricazione continuino a crescere. Abbiamo il piacere di avere ospite nei nostri studi l'avvocato Floriana Natale, esperta in diritto di famiglia e minorile, consigliere della Camera Minorile di Capitanata. Buongiorno, buongiorno avvocato e benvenuta. Allora, partiamo da una visione ampia dei fenomeni, quindi bullismo e cyberbullismo. Quindi cerchiamo di inquadrare questi due fenomeni e perché no, anche se ci sono delle differenze tra i due. Certo, certo. Dunque, certamente bisogna fare un distinco molto evidente. Quando parliamo di bullismo parliamo di tutte quelle forme di aggressività e aggressione che si configurano fisicamente. Però fisicamente, intendo dire, rispetto, diciamo, non sono mediate, non sono filtrate da un sistema appunto informatico di cui parleremo a seguito. Questo pertanto possiamo configurarlo come tutte quelle attività di violenza fisica e psicologica posti in essere da un soggetto rispetto ad una vittima. È evidente, e io ci tengo molto a sottolineare questo aspetto, che perché si debba parlare di bullismo occorre la presenza di tre elementi. Questi tre elementi devono essere tutti, come dire, costantemente presenti, altrimenti possiamo rischiare di far confluire nel concetto di bullismo ogni attività, che bullismo non è. Innanzitutto ci deve essere una reiterazione dei comportamenti violenti, aggressivi e quindi devono essere ripetuti, chiaramente. Poi ovviamente ci deve essere una sproporzione tra le vittime. Per sproporzione si può intendere sia una sproporzione psicologica. Io quando parlo con i ragazzi e lo spiego, dico il livello di cattiveria, no? Quindi, per esempio, un ragazzo che subisce magari un atto di bullismo solitamente più fragile, più debole, ha un vissuto particolare o semplicemente non riconosce, perché non è educato in quel modo, il linguaggio della violenza. E invece dall'altra parte troviamo un ragazzo che crede, che usando la forza, l'aggressività, la minaccia, diventa noto e quindi è più forte. E quindi la sproporzione in questi termini, come può essere una sproporzione fisica. Immaginiamo una persona molto forte, molto grande, di statura, rispetto a un ragazzetto o una ragazzetta. E infine occorre l'intenzionalità, naturalmente, in quello che si fa. Quindi la voglia proprio di mettere a disagio l'altro e quindi di creare un danno di qualunque natura, come dicevamo, fisica o psicologica. E questo è sicuramente il bullismo. Mentre per cyberbullismo noi intendiamo tutto quello che, in qualche modo, tutti i danni, anche qui, ma qui sono per lo più, e ovviamente possiamo immaginare, di natura psicologica, che avvengono tramite i dispositivi elettronici, informatici. E quindi pensiamo agli smartphone, pensiamo ai computer, pensiamo a tutto questo sistema, il famoso mondo del web, che è appunto questa rete, che io dico sempre ai ragazzi, attenzione perché la rete vi intrappola. Un esempio di cyberbullismo avvocato può essere, immagino, una ragazza un po' più fragile viene presa di mira per l'aspetto fisico, viene girato un video in cui si mette in difficoltà questa ragazza e il video poi fa il giro delle chat dei ragazzi, delle scuole. Quindi si mette alla berlina una fragilità di una giovane o di un giovane. Esattamente, ho accorto perfettamente il segno, nel senso che proprio quello accade. E anche qui ogni tanto amo riportare la mia esperienza diretta, quotidiana. Quando io vado nelle classi faccio proprio questo riferimento, attenzione per esempio a WhatsApp, un sistema diffusissimo, e i ragazzi molte volte mi chiedono, quindi noi non possiamo fare questo? No, perché molte volte i ragazzi prendono anche una foto in una postura particolare di quella ragazzina, la fanno girare. Noi abbiamo avuto casi in cui una foto fatta in un istituto di San Giovanni Rotondo è andata a finire in tutt'altra parte d'Italia, perché, sappiamo tutti, il gruppo crea un meccanismo di automatismo proprio istantaneo. E in effetti quando qualcuno dice, eh vabbè, ai miei tempi si faceva, ai miei tempi non vale più, perché oggi il sistema della rete, il sistema di internet ha velocizzato in una maniera esagerata un meccanismo per cui esce fuori dal controllo. Io spiego ragazzi, quello che tu oggi hai mandato ad un'amica non sai, nel giro anche di mezz'ora doveva finire. Esatto, poi violando ogni tipo di trial. Violando assolutamente per poi appunto non entrare nell'ottica dell'utilizzo di infraquattordicenni di dispositivi, comunque di meccanismi, penso a Whatsapp, penso a Instagram, a TikTok, che loro per legge non potrebbero utilizzare. Quindi infatti io quando ancora una volta vado in classe, dico voi avete installato magari a 11 anni, 10 anni, addirittura dicono sì, dico e voi come fate? E il ragazzo candidamente dice ho messo un'età falsa. Ecco. Quindi voi capite bene come già l'approccio è come dire all'insegna della violazione della norma. E allora ecco che da lì possiamo immaginare quanti danni possono accadere. Poi tra l'altro i ragazzi adesso sono bravissimi anche a modificare le foto. Quindi noi abbiamo questi meccanismi per cui fanno gli avatar, tutti questi sistemi per cui poi a un certo punto quella ragazza viene proprio identificato, quel ragazzo non solo per quello che è, ma per quello che addirittura nella mente molte volte cattiva del ragazzo si viene a creare, si viene a connaturare. Quindi abbiamo proprio dei casi in cui, e purtroppo mi è capitato di leggere anche in alcuni progetti che ho fatto, ragazzi che hanno chiaramente detto io avevo voglia di suicidarmi perché mi sentivo solo, mi sentivo attaccato. E' quindi evidente che questa situazione insomma genera un meccanismo gravissimo da cui difficilmente si esce se i ragazzi non vengono supportati. Avvocato poi parliamo di età abbastanza difficili e complicate. I ragazzi non hanno gli strumenti che magari può avere un adulto di sopportare, non hanno le spalle forti di sopportare tutto quello che magari appunto il cyberbullismo, le conseguenze può portare. Poi parleremo anche del ruolo della famiglia e della scuola fondamentale, anche perché lei è impegnata proprio in un'attività di sensibilizzazione. E poi tra qualche minuto ci collegheremo anche con la fondazione Carolina e vi racconteremo davvero una storia meravigliosa di un padre che non ha reso vano il dolore per la perdita di una figlia. E se abbiamo tempo, e ce l'abbiamo, vorrei chiederle se esistono nel nostro paese delle linee di indirizzo generali e di azioni a livello nazionale proprio per la prevenzione della lotta al bullismo. Certo, diciamo che la norma che è la legge che ha creato una sorta di svolta, l'abbiamo avuto nel 2017, la famosa legge 71 nel 2017. In realtà questa legge ha regolamentato per lo più il fenomeno del cyberbullismo. E l'attenzione, devo dire in maniera acuta, è stata rivolta alle scuole. Perché si è capito che i punti principali sono i luoghi di aggregazione. E anche se però, devo dire che un'attenzione particolare deve essere data a tutti i luoghi di aggregazione. Penso ai luoghi in cui si fanno le attività extrascolastiche, quindi calcio, danza. Perché noi veniamo a conoscenza, quando operiamo sul territorio, anche di attività subite, diciamo, di fenomeni di bullismo, parabullismo, insomma, anche in questi altri contesti. Però, giustamente, il registratore parte dalla scuola. E da lì sono state delivineate una serie di linee guida importantissime, tra cui per la prima volta viene stabilita la figura del referente al bullismo. Ogni istituto si deve dotare di un professore o di un maestro che si prenda a cuore questo aspetto, per esempio, organizzando attività di formazione, di prevenzione, appunto, all'interno dell'istituto. E quindi sensibilizzando un po' tutti, a partire dai ragazzi o bambini, a seconda della fascia d'età, passando per i docenti e arrivando alle famiglie. Inoltre, nel cyberbullismo, noi abbiamo, grazie a questa legge, un'attenzione proprio massiccia, proprio di tutto quello che avviene tramite gli strumenti, addirittura, fino ad arrivare all'ipotesi proprio della segnalazione che si può fare anche al questore, quindi il cosiddetto ammonimento, che è una figura che esiste già da tempo nella fattispecie dello stalking. E quindi il ragazzo, però, qui deve aver compiuto 14 anni, può essere chiaramente richiamato, sempre accompagnato dai genitori dal questore, per ricevere questo ammonimento. Il termine ci richiama alla concezione calcistica, ma proprio a dire quello, attenzione, io ti ho richiamato perché la tua condotta non è coerente con quella che dovrebbe essere, attenzione, perché altrimenti poi ci potranno essere delle sanzioni più serie. Purtroppo tutto questo, però, io devo riconoscere, non è ancora molto ben assimilato. E quindi spesso noi, quando parliamo anche con i genitori, ci rendiamo conto che stiamo parlando di qualche cosa assolutamente nuova, seppur immaginiamo che questa legge comunque risale già al 2017. Lo stesso vale per gli istituti, dove purtroppo molte volte non vediamo una fattiva attività di prevenzione, perché nell'istituto si deve prevenire, poi certo intervenire, ma la prevenzione sembra chiaramente una cantilena trita e ritrita, ma io sono convinta. La prevenzione è fondamentale, perché appunto quando si interviene successivamente il ragazzo ha già creato un danno nell'altro, peggio ancora vuol dire che ha maturato in sé qualcosa che non va, penso al bullo naturalmente. Se noi invece preveniamo, e preveniamo anche rendendo consapevoli i ragazzi di quello che è, la consapevolezza, io dico, un po' come la cultura ci rende liberi, no? E quindi il ragazzo a quel punto è libero di scegliere se fare o non fare, ma se il ragazzo questo non lo sa, è evidente che magari a un certo punto l'ignoranza in senso lato lo può portare ad agire anche in maniera leggera e questo è un grande problema naturalmente. Interessante anche questa figura del referente scolastico, perché forse qualche anno fa le scuole in qualche modo anche inconsapevolmente negavano l'esistenza di questo fenomeno, poi invece tutto è emerso, perché prima o poi insomma sarebbe emerso. Allora, chiedo alla regia, ci fermiamo qualche istante, abbiamo un tassativo da rispettare, poi chiameremo i nostri ospiti in collegamento video, ci collegheremo con la Fondazione Carolina, con Paolo Picchio e Ivano Zoppi. Quindi restate con noi perché continueremo a parlare di questo importante fenomeno e vi racconteremo una storia molto molto bella. State con noi. Carolina è una ragazza intelligente, altruista, sportiva e sognatrice, ma quella notte tra il 4 e il 5 gennaio del 2013 la fragilità di adolescente prende il sopravvento e caro si toglie la vita. Troppo grande l'umiliazione di vedersi in un video mentre, priva di conoscenza, dei suoi coetanei giocavano con il suo corpo mi mando atti sessuali. L'odio è tutt'altro che virtuale, come il dolore e la sofferenza. Un messaggio da Dio diventato nel tempo un monito per intere generazioni. Le parole fanno più male delle botte. Ciò che è accaduto a me non deve più succedere a nessuno. Così, papà Paolo Picchio decide di non rendere vano quello che è successo e fondare una fondazione che porta il nome di Carolina. E noi abbiamo il grandissimo piacere di avere questa mattina collegati con noi Paolo Picchio, presidente onorario della Fondazione Carolina, Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione Carolina. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Papà Paolo, il dolore è che ha provato sua figlia, non deve più provarlo nessuno. Questo è il significato della Fondazione Carolina. Sì, in effetti, guardi, quando è successo questo fatto tragico, siamo nel 2013. Allora, veramente, io per primo, ma nessuno parlava di questo fenomeno, di bullismo in rete. Ecco, Carolina purtroppo è stata la prima ad averlo voluto scrivere, perché proprio grazie a lei si è scoperchiato questo mondo, grazie a lei, poi, al suo messaggio, ma alla sua lettera, c'è stato il primo processo in Italia e il primo processo in Europa, dove cinque ragazzi sono stati indagati e processati per reati molto gravi. Ma, grazie poi al suo messaggio, abbiamo portato avanti la prima legge in Italia e in Europa di educazione e prevenzione del cyberbullismo. Ecco, certamente, il fenomeno allora era sottaciuto. I ragazzi già si stavano facendo del male, ma forse grazie alla forza di Carolina ci si è messi di fronte a un problema, un problema grosso per queste generazioni, le nuove generazioni. Chiedo ad Ivano Zoppi, quello che la Fondazione Carolina fa si può riassumere in tre parole, ricerca, prevenzione e supporto? Tre parole che racchiudono però una grandissima attività. La ricerca, perché vogliamo essere costantemente aggiornati su quelli che sono i fenomeni che riguardano i ragazzi in rete e, ahimè, anche fuori dalla rete. Ricordiamoci che non c'è più distinzione tra reale e virtuale. La sensibilizzazione e la prevenzione che passano attraverso l'incontro costante con questi ragazzi. Noi arriviamo a incontrarne fra i 70 e gli 80 mila all'anno. Oggi siamo a Bologna, ne incontreremo tanti altri nel giorno dedicato alla sicurezza in rete, ma non basta, non è sufficiente. Ci vuole una continuità educativa che deve essere garantita da tutta la comunità educante. E poi il supporto che risponde a una domanda molto semplice. Quando succede un pasticcio, chi chiamo, dove vado, chi coinvolgo? E qui chiamiamo in causa la comunità dei genitori, la comunità educante tutta, perché molto spesso i ragazzi ci dicono che quando assistono o subiscono un episodio di una qualunque forma di bullismo non hanno nessuno con cui parlarne. Ecco, questo è un richiamo forte che in questa giornata vogliamo dare prima di tutto ai genitori, ma poi a tutti coloro che hanno responsabilità educative nei confronti dei ragazzi. Papà Paolo, oggi siete a Bologna e incontrerete tanti studenti. Che cosa le chiedono i giovani? Che cosa le dicono dopo che lei racconta la storia di Carolina? Beh, innanzitutto quello che vedo è che i ragazzi quando vedono la storia di Carolina e poi sentono le mie parole, provano emozioni vere, emozioni che si vede che questi ragazzi non sono abituati ad avere un impatto così forte. Certo, le emozioni che la rete gli dà sono fittizie e quindi loro su questo invece sono colpiti profondamente. Molto spesso abbiamo dei ragazzi e delle ragazze che vanno in crisi, escono perché non ce la fanno a sopportare il fatto di dover piangere, di dover sentirsi tristi. E quindi questo è fondamentale perché riusciamo ad avere un impatto con i ragazzi molto forte. Loro stessi ci chiedono ma lei come ha fatto a superare questo dramma? Perché si immedesimano nel dolore che anche un genitore ha subito. Molto spesso sono domande a cui la risposta è difficile da dare. Io mi sono dato forse una forza proprio per la lettera di Carolina, perché Carolina mi ha dato un messaggio che io non volevo lasciare perdere. Dice, spero che adesso sarete tutti più sensibili sulle parole. Ecco, grazie a questo messaggio io ho pensato, se hanno colpito Carolina, che era una ragazza così forte, vincente, quanti ragazzi sono a rischio. Proprio per questo ho voluto costituire Fondazione Carolina con Ivano Zoppi, proprio per dare una risposta a tanti ragazzi che ce lo chiedono. Cioè, il perché sussiste il fenomeno, ma soprattutto come affrontarlo e come uscirne fuori. Abbiamo in studio, e vi rubo ancora qualche minuto perché sappiamo che state appunto per incontrare i ragazzi, i giovani, c'è Floriana, il nostro avvocato di riferimento, che appunto fa tanto per promuovere, per fare prevenzione nelle scuole. Floriana, vuoi chiedere qualcosa, intervenire? Sì, 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 no, mi volevo semplicemente collegare appunto a quanto appena detto. Io quando faccio proprio nelle scuole i miei interventi, comincio proprio con quel video che è molto diffuso su YouTube, in cui appunto c'è chiaramente una sorta di ragazza che in qualche modo incarna in quel momento Carolina, quel video che gira appunto, molto bello, nel quale poi la ragazza in qualche modo dice voi non sapete cosa vi siete persi, in cui chiaramente questo è una sorta di lancio poi a quelle che poi sono le attività che noi compiamo. Giustamente sentivo dire, il problema è proprio quello, che i ragazzi molte volte non sanno a chi rivolgersi. E noi quando interveniamo nelle scuole facciamo proprio quello. Ricordiamo i ragazzi che loro hanno degli adulti, i cosiddetti adulti di riferimento, a cui quando hanno dei problemi si devono rivolgere. Appunto, come dicevamo prima, la consapevolezza. E quindi sono perfettamente d'accordo anche per quello che io quotidianamente vivo nelle scuole. E' proprio questo, bisogna lavorare moltissimo per rendere consapevoli tutti, tutto il corpo che educa, che poi come dicevo prima, a cominciare dalle parrocchie, passando per la scuola, attraverso i centri ludici e quant'altro. Ivano Zoppi, oggi lanciate un hashtag, hashtag CyberJoy, che significa felici di navigare. Felici di navigare è proprio l'obiettivo che si dà a Fondazione, cioè quello di creare le opportunità, le possibilità, finché i ragazzi, e non solo i ragazzi, possano navigare in rete, felici, sicuri e accompagnati, aggiungerei. E tornerei proprio al messaggio della presenza necessaria da parte del mondo degli adulti. I genitori in prima istanza non lascerebbero mai i propri figli da soli in un parco, abbandonati. Ecco, questo invece è quello che purtroppo accade troppo spesso nella rete, quando i ragazzi sono lasciati soli. Per cui sì, felici di navigare, la gioia di navigare, che è un po' un termine che va a contrastare il termine cyberbullismo. Cercavamo qualcosa che dicesse, è bello anche navigare in rete, basta essere sicuri e responsabili e accompagnati. Grazie, grazie di cuore per questo messaggio. Fondazione Carolina, basta digitare queste due parole su qualsiasi motore di ricerca, siete anche sui social. Grazie davvero di cuore a Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione, e a Papa Paolo Picchio, presidente onorario. Grazie per la vostra testimonianza e per essere stati con noi. Grazie a voi. E per quello che fate. Grazie. Grazie. E poi dietro ogni parola, avvocato, dietro ogni immagine, dietro ogni like, ci sono davvero delle emozioni autentiche dei giovani. Chiedo alla regia se possiamo un attimo andare nello spazio dedicato alle informazioni, perché Nicola Morcavallo è pronto con una notizia che riguarda proprio il mondo della scuola. A te Nicola. Sì Paola, mi inserisco in questo discorso molto delicato ed importante che spesso riprendiamo ed è giusto che lo facciamo e continuiamo a farlo, perché il mondo della scuola è così variegato dal punto di vista anche degli aspetti diciamo poco edificanti, che vede come protagonisti i genitori però in modo negativo. Il ministro Valditari infatti, quest'oggi tramite un'ultima ora dell'ADN Cronos, mette in evidenza proprio questo fenomeno, il fenomeno delle aggressioni da parte dei genitori nell'ambito scolastico. Non la vedo semplice, però nelle aree particolarmente a rischio si può immaginare una presenza delle forze dell'ordine a protezione di alcune scuole. Lo afferma appunto in un'intervista il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditari rispondendo a una domanda sulle possibilità di immaginare per le scuole qualcosa di simile a quello che si sta facendo negli ospedali dove sono stati ripristinati i presidi di polizia per proteggere i sanitari. Il ministro sottolinea che le aggressioni agli insegnanti sono in aumento rispetto allo scorso anno scolastico. Nell'ultimo anno scolastico avevamo avuto 36 casi, ora dopo neanche 5 mesi siamo a 27. Ecco, questa è la pagina diciamo che si inserisce nel contesto più ampio della prevenzione del bullismo a scuola e potremmo dire quando i bulli sono i genitori. Ecco, grazie, grazie Nicola. Questo anche in riferimento a quello che è successo ieri, se magari abbiamo anche un aggiornamento su un insegnante che è stata accoltellata da un ragazzo di 17 anni ieri, poi magari Nicola, appena vuoi... Sì, volendo c'è comunque all'interno di questa intervista al ministro Valditari anche un riferimento al caso di Cronaca riguardo al caso di Varese dove ad aggredire la professoressa è stato uno studente, Valditari osserva. È chiaro che agire solo dal punto di vista repressivo non basta, bisogna intervenire prima quando un ragazzo ha problemi che possono sfociare in episodi di aggressività non può essere abbandonato a se stesso ed è un po' quello che stiamo dicendo appunto anche attraverso l'opera di professionisti come l'avvocato Floriano Natale nell'ambito delle scuole. Grazie, grazie Nicola. Più tardi, qualora dovessero esserci anche altre notizie, è pronto a chiederci la linea. Una testimonianza è che non lascio indifferenti quella di Papa Picchio e della Fondazione Corina. No, tra l'altro appunto come dicevo quella è una storia che mi ha sempre molto colpita e io la racconto sempre quando incontro sia ragazzi, sia docenti, sia le famiglie perché bisogna partire poi da quella che è la vita, la vita vera, vissuta. Appunto il papà di Carolina diceva proprio molti ragazzi non riescono a trattenere la commozione ed è così. Io lo vedo anche quando mi interfaccio con i ragazzi oppure con i genitori, ripeto con i docenti, con tutti coloro che partecipano all'attività educativa. Quindi sicuramente non lascio indifferenti ma quello che dobbiamo evitare è quello che spesso noi purtroppo cognitiamo che è finito il momento di commozione, di enfasi, di trasporto per queste situazioni intorno ai giorni particolari, poi dopo ci sia un atteggiamento quasi di indifferenza, ritorniamo tutte le nostre attività quotidiane e invece no perché noi quello che proviamo a fare anche appunto a livello locale con le scuole, in particolare alcune, è proprio questo, quello di lavorare tutto l'anno su questo fenomeno, su fenomeni affini. Se mi permette, mi volevo collegare a quanto si era appena detto. In fondo se noi vediamo ragazzi che hanno difficoltà alle volte anche a comunicare quello che gli accade alla classe docente è perché probabilmente molte volte sono gli stessi genitori che sminuiscono, sviliscono il ruolo dei docenti perché è chiaro che bisogna far ritrovare in questi ragazzi l'autorevolezza del docente. Io genitore, se parto e vado a scuola ad aggredire un docente, un insegnante, un preside, ho dato un segnale negativissimo, ho distrutto chiaramente quel ragazzo e a sua volta perdendo il punto di riferimento il ragazzo nemmeno racconterà più perché non lo vede più come appunto un riferimento fondamentale. Se i ragazzi non hanno punti di riferimento nella loro vita, sembra banale dirlo, ma mi sembra opportuna come sede il ragazzo si perde. Avvocato resti con noi perché abbiamo ancora alcuni punti da affrontare insieme, andiamo in pubblicità e poi torneremo in diretta con l'avvocato Floriana Natale, state con noi. Parliamo di bullismo e di cyberbullismo perché domani sarà appunto la giornata dedicata al contrasto di questo fenomeno, di questa piaga. Avvocato, allora il ruolo della scuola e della famiglia? Beh come dicevamo prima anche una legge ormai dal 2017 ha delineato l'importanza di intervenire all'interno delle scuole e appunto l'elemento fondamentale però deve essere questa sinergia di forze. Scuola e famiglia non possono chiaramente non collaborare. D'altra parte quando noi scriviamo un ragazzo a scuola che cosa facciamo? Firmiamo il cosiddetto patto di corresponsabilità. In fondo è quel patto attraverso il quale la famiglia lo scrive e si prende appunto diventa corresponsabile di quelle che sono poi le attività che il ragazzo compie all'interno della scuola. La cosa simpatica è che molte volte il genitore lo firma ma non l'ha mai letto e quindi noi non ci rendiamo conto neppure di quello che andiamo a fare. E' sintomatico questo patto di corresponsabilità in realtà cosa vuole essere? Forse anche ha un grande significato simbolico la corresponsabilità. Lavoriamo insieme perché la struttura a scuola non ce la fa da sola senza la struttura famiglia. Potrei dire viceversa. Il rapporto quindi tra scuola e famiglia diventa fondamentale e quindi grazie anche a quella famosa legge di cui parlavamo prima sono fondamentali i progetti e tutte le attività che all'interno della scuola si devono svolgere, si devono fare anche appunto cercando di coinvolgere il più possibile le famiglie. A proposito di progetti, lei è molto attiva sul territorio quindi prendiamo come dire il nostro come punto di forza il nostro riferimento San Giovanni Rotondo. Appunto quali progetti state portando avanti? Dunque fondamentalmente noi da tanti anni portiamo avanti una serie di progetti e devo dire soprattutto lavoriamo con nello specifico con l'istituto Dante Galliani. In passato e ancora oggi lo facciamo abbiamo lavorato anche con le classi della scuola primaria a cominciare dalla terza elementare e abbiamo improntato questo progetto molto bello fiabe giuridiche poiché in terza elementare i bambini cominciano ad approcciare al mondo delle fiabe, delle favole, del mito e allora noi attraverso le fiabe avviciniamo proprio i ragazzi al mondo del diritto e quindi diritto e doveri, rispetto delle regole perché d'altra parte parte tutto da lì. Crescendo i progetti si sono affinati e in questo periodo proprio presso la Gagliani di San Giovanni Rotondo, il riferimento è sulle terze medie, portiamo avanti questo bellissimo progetto che l'abbiamo denominato a scuola contro la violenza. Quindi noi praticamente andiamo in classe e come proponeva all'inizio di quest'anno scolastico lo stesso ministro Valditara proviamo a far salire in cattedra ai ragazzi, cioè non un passivo ascoltare di quello che poi alla fine noi professionisti possiamo dire. Io dico sempre ai ragazzi voi ormai siete oberati, siete pieni di nozioni. Il nozionismo in questi campi serve poco, bisogna fare in modo che i concetti vengano fuori da loro. Io vado in classe, parlo con loro, ogni tanto individuo un cosiddetto per ridere segretario, quindi lui che cosa fa? Mette nero su bianco tutte quelle che sono le emozioni, i suggerimenti che a seguito di un mio input vengono fuori da queste classi e poi noi alla fine chiaramente procederemo proprio con una produzione finale che presenteremo se riusciamo proprio alla collettività di San Giovanni Rotondo su quello che è venuto fuori a fondo di questo progetto. Molto interessante, questo appunto anche come dicevamo all'inizio l'importanza della prevenzione è di iniziare presto a scuola, non è mai troppo presto? Appunto, non è mai troppo presto perché noi paradossalmente quando lo racconto qualcuno resta alquanto scioccato, mi vengono casi di bambini delle scuole materne che praticamente sono stati sottoposti a una sorta di ricatto, cioè nel senso è accaduto che i bambini piccolini dicono domani mi devi portare due caramelle, altrimenti ti picchio, domani tre caramelle. Come vedete questo succede nelle materne, chiaramente io sto parlando non della nostra realtà in questo caso stretta perché insomma lavoriamo anche a livello territoriale ampio, ma questi casi esistono, quindi voglio dire appunto non è mai troppo presto e inoltre nel discorso appunto che facevamo del rapporto scuola-famiglia, noi proprio domani pomeriggio in occasione della giornata contro il bullismo e il cyberbullismo incontriamo i genitori dei ragazzi di terza media che sono poi i destinatari di questo progetto insieme al dirigente appunto della Dante Gagliani Francesco D'Amore e dove faremo il punto in itinere di questo progetto, racconteremo quelle che sono i primi diciamo così, insomma le prime sensazioni e con loro ci confronteremo. Importante il ruolo dei genitori, quindi la corresponsabilità, si viaggia insieme? Assolutamente. Non si può viaggiare in direzioni inverse? No, assolutamente no. Allora grazie all'Avvocato Floriana Natale per essere stata con noi quest'oggi, l'abbiamo invitata appunto nella giornata odierna perché domani il mercoledì è la giornata comunque che dedichiamo all'udienza di Papa Francesco, ma sarebbe stata una giornata importante anche perché appunto siete nelle scuole per portare, per parlare appunto, portare questo messaggio e parlare di bullismo e cyberbullismo. Grazie ancora all'Avvocato Floriana Natale per essere stata nostra ospite quest'oggi.